Bella a tutti ragazzi e ragazze, sono Ney e questo è un nuovo video. Oggi sono in un vlog, la mia vacanza. Ora sono a Corte Maggiore con due mie amiche, ora ve le faccio vedere. Lei è? Sofia, ciao. Ok. Lei è? Michelle. E lei è Sofia. Ok, ora andiamo al bar e niente, ciao. Andate al bar, ho preso una bottiglia d'acqua e una granita. E Michelle se ne è dovuta andare. Ora siamo io, lei, Sofia e mio cugino. Per esempio, come ti chiami? Peppo. Peppo. Non guardarmi a me, guardate il latino di camera. Peppo. Va bene. E ora andiamo a fare prank tipo tag life sulla gente. Niente, ciao. Praticamente abbiamo trovato un cane e ci siamo innamorati. Sì, è normale. Muoviti. Questa è la cazza. Molto gente qui, come si è qua. Allora, vai. No, 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 no. Le mentos nella coca. Devi metterle nel tacco. E dai, mettetela. Sì, se non ci stanno. No, ragazzi, non ci stanno. Per domani, eh, comunque. Ok, la reazione dovrebbe venire un po' più bella, però. Con il sale funziona di più. Usiamo il sale. No, ormai è andata. Qua, madonna. No, no, usiamo il sale. Passa. Passa. Passa, Marci. Vorrei assaggiarlo. Allora, no, no. Addio, oddio. Perché ci non è un altro in fondo. Oh. Ma non spercarlo. No, Marci, fai così. Certo, domani, bravo. No, no, no. Non fare così. Mi sono scritto tutto tutto. No, dovete agitarla. No, no, no. Vai così, allora. Siamo il sale. Siamo il sale, siamo il sale, siamo il sale. E dove cazzo stai, sale? Chiudi, poi. Eh? Dove stai, sale? Sì, di Marci. Eh, dobbiamo arrivarci, cioè. Non ci rivedremo. Male. Bene, vai. Ciao. 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 Grazie a tutti